Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità con 34 voti a favore la modifica della legge regionale 77 del 1998 che determina i limiti massimi di costo degli interventi di edilizia residenziale pubblica. È stato il presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali, Enrico Sostegni, a illustrare il provvedimento in aula. Una leggina abbastanza semplice ma importantissima. I lavori di ristrutturazione delle case popolari si stavano bloccando, anzi si sono bloccati in tante parti perché per gli ERP c'è un limite al costo che si può sostenere nelle ristrutturazioni che è stabilito da un decreto ministeriale che la Giunta regionale ogni anno riadotta. Questo limite di costo a causa dell'inflazione diventava ogni anno troppo basso e quindi faceva sì che poi non si trovavano le ditte per fare i lavori rallentando l'adeguamento di alloggi ERP. Noi sappiamo quanto sia importante la ristrutturazione dell'alloggio e quindi dare una risposta ai nostri cittadini. Con questa legge diciamo che la Giunta può ovviamente rispettare i limiti nazionali che ci possono essere a partire dal decreto del 1994. Ma qualora vi è un aumento dei prezzi può usare come limite massimo il prezziario regionale che dallo scorso anno vede un adeguamento dei prezzi non solo una volta l'anno ma anche all'interno dell'anno e che quindi è aggiornato su quello che è l'andamento inflattivo. Quello costituirà il limite massimo di costo che si può utilizzare e che si può sostenere per l'alloggio ERP e che dovrebbe essere assolutamente adeguato in linea con i prezzi e quindi ci permetterà di far ripartire tanti cantieri che ora sono bloccati. In Commissione spesso abbiamo parlato delle case popolari di come il danaro potrebbe essere riciclato vendendo determinati alloggi per poter mettere a regime altri che magari sono fermi soltanto perché devono essere rimessi in cesto. Sicuramente l'aumento, anzi la rimodulazione del prezzario è stata necessaria dal fatto che appunto il costo delle materie è aumentato enormemente e ha fatto sì che molti appalti non fossero più sostenibili ai prezzi precedenti. Ma viene da considerarsi anche il combinato disposto. L'aumento dei prezzi collegato al fatto che l'edilizia popolare in tutti questi anni è stata fortemente trascurata anche dal punto di vista finanziario dalla Regione ha fatto sì che adesso ci si ritrovi a presentare una proposta di legge che cristallizza un aumento, un esborso enormemente aumentato da parte della Regione per rimettere in cesto degli appartamenti e degli immobili che lo ricordiamo come è stato denunciato anche da Sunni a CGL a gennaio. Sono moltissimi in pessime condizioni e soprattutto 4.000 di essi aspettano di essere riassegnati, alcuni dei quali anche perché in condizioni non accettabili per poter essere dati ad altre famiglie. L'aumento del costo delle materie prime e non soltanto che è avvenuto in questi mesi sotto gli occhi di tutti questo immobilizzava di fatto tanti appalti pubblici anche in ambito di edilizia e residenziale pubblica e quindi era giusto che la Regione, anche la Regione Toscana, intervenisse cambiando le regole rigide che erano previste per legge appunto rispetto all'acquisto delle materie prime in ambito erpio. Quindi abbiamo in maniera convinta votato a favore di questo adeguamento normativo che fa sì che anche la Regione Toscana si stia al passo con i tempi e si stia dentro un contesto attuale che è un contesto ahimè da questo punto di vista completamente diverso rispetto a un anno e mezzo fa. Via libera del Consiglio regionale al bilancio preventivo 2023 e pluriennale 2023-2025 dell'Agenzia regionale di Sanità. L'Aula si è espressa a maggioranza con 19 voti a favore e 11 voti contrari. sulla richiesta di parere al Consiglio regionale e sull'assegnazione di risorse finanziarie per l'esercizio 2025. Un bilancio con ricavi pari a 4 milioni e 690 mila euro e costi per 4 milioni e mezzo. Rimane inalterato il contributo regionale di 3 milioni e 415 mila euro, con una riduzione di 150 mila euro rispetto all'esercizio precedente. L'Agenzia regionale di Sanità è un punto di riferimento per tutti gli operatori, per la politica, direi anche per i cittadini, basta andare sul sito e vedere gli innumerevoli lavori che producono continuamente i ricercatori che fanno capo all'Ars. Un punto di riferimento perché quando si parla di sanità è necessario partire dai dati, è necessario partire dalle analisi e quelli che l'Ars fa sono un punto fondamentale che noi abbiamo usato anche quando abbiamo fatto il percorso degli Stati Generali della Salute, se no si rimane alle opinioni e invece le discussioni politiche vanno fondate sui dati. Dunque, l'Agenzia di Sanità è una valutazione positiva perché è un ente tecnico, un ente tecnico che dovrebbe risolvere dei problemi che la politica pone. Evidentemente però non vengono posti in maniera adeguata se il risultato è una sanità di questo genere, dove si dice tutto il contrario di tutto. Naturalmente, essendo il bilancio di Ars un'emanazione diretta della Giunta, è ovvio che noi non partecipando quindi alla stesura e comunque alle scelte programmatiche non potevamo che votare contro. L'Aula di Palazzo del Pegaso ha approvato a maggioranza il bilancio di esercizio 2021 dell'ente parco regionale di Migliarino, Sarossore e Massaciuccoli, registrando 20 voti favorevoli e 10 contrari. Il valore della produzione si attesta ad oltre 5 milioni e 134 mila euro, il 13,40% in più rispetto al bilancio di esercizio 2020. I contributi della Regione Toscana per il funzionamento sono pari a 1.154.000 euro, come nel 2020, accanto ai contributi da altri soggetti pubblici per 1.457.000 euro, il 72% in più rispetto al 2020, e ai ricavi per prestazione dell'attività commerciale 560.965 euro, il 91,39% in più rispetto all'annualità precedente. Abbiamo approvato il consuntivo 2021, un consuntivo che riguarda un anno in cui c'è stato il cambiamento della Presidenza. Il Presidente Bani è subentrato con la nuova rappresentanza della Comunità del Parco a luglio, quindi è un bilancio a cavallo fra mandati diversi, presidenze diverse. In ogni caso è un bilancio che chiude inutile e segnala, credo, già un primo cambiamento di passo, perché se leggiamo le cifre, i dati del bilancio, vediamo come i ricavi dalle attività legate a quanto si svolge nel territorio del parco, attività agricole, zootecniche e di valorizzazione comunque delle produzioni che nel parco si sviluppano, è aumentato. È chiaro che il parco ha potenzialità enormi, che devono ancora e maggiormente essere valorizzate e sviluppate. Credo che la Presidenza Bani per questo stia dando segnali importanti di dinamismo, apportando anche nuove idee che nel futuro prossimo sicuramente faranno fare al parco un salto di qualità, quello di cui c'è bisogno, perché il parco è un bene di tutti. La valutazione è sbalorditiva, perché dopo, diciamo sempre le stesse cose, arriviamo sempre in ritardo, viene approvato un bilancio che doveva essere approvato un anno fa e la cosa che mi risulta un po' strana è che dall'accesso atti che avevo fatto anche sui documenti relativi ad un concorso che aveva portato alla selezione e all'assunzione di una nuova persona in amministrazione, vengo adesso a sapere che hanno necessità di un'altra persona. Quindi mi pongo un po' di dubbi sulla validità di quel concorso. Sono cose che dovrebbero essere approfondite, sicuramente la regione toscana non può continuare ad approvare bilanci in ritardo di tutti i suoi parchi, dovrebbe veramente porci un pensiero, una attenzione, una programmazione e arrivare a valorizzarli, perché altrimenti così sono solo organismi che non servono praticamente a niente, servono solo a perdere dei soldi e quindi bisogna prendere una decisione. O si finanziano o si cambiano le persone, perché qualcosa vuol dire che non funziona. Noi vogliamo verificare una cosa che verificheremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. C'è un patto tra il Quirinale, quindi la Presidenza della Repubblica, è il parco di Migliarino, Massaciuccoli e San Rossore, che riguarda la tenuta di San Rossore che è all'interno del parco e prima la tenuta del Presidente della Repubblica, che prevedeva che il Quirinale versasse alla regione toscana per la gestione della tenuta 4 miliardi e 200 milioni di vecchie lire l'anno, che equivalgono a 2 milioni di euro. In realtà la regione toscana versa al parco circa 800 mila euro l'anno. Quindi noi vogliamo capire se quei 2 milioni continuano ad arrivare dal Quirinale e poi la regione li trattiene, anziché per San Rossore, nella pancia del bilancio regionale oppure se quei soldi non arrivano. Quindi vogliamo capire meglio questa vicenda, intanto la segnaliamo, ma stiamo facendo gli atti opportuni per poterla mettere in maniera più decisa alla luce della pubblica opinione. Bisogna rilevare il ritardo notevolissimo con cui questi atti giungono all'approvazione nelle aule del Consiglio regionale della Toscana. Un tema che già di per sé giustifica la bocciatura da parte del gruppo della Lega di questi atti. Forse il sistema dei parchi regionali andrebbe ripensato. Andrebbe ripensato perché c'è una diminuzione dell'investimento, dell'impegno economico da parte della regione toscana, che fa pensare anche dal punto di vista dell'approccio che la regione toscana intende dare a questi riferimenti così importanti per quanto riguarda il nostro territorio, che si va ad aggiungere in un quadro già di difficoltà perché il venir meno delle province aveva già di per sé ridotto quello che era l'impegno economico e che ulteriormente aggrava un'altra questione sul quale sono intervenuto a più riprese durante la discussione sia in Commissione Quarta che in Consiglio regionale e che è la difficoltà dei versamenti delle quote da parte dei comuni che fanno parte della comunità del parco. Aspetti che evidentemente fanno riflettere, ragionare su una governance che possa gestirli tutti quanti, anche con differenziazione di impegno economico perché evidentemente siamo di fronte a parchi che hanno caratteristiche e anche un'ampiezza differente. È stata inaugurata nello spazio espositivo Carlo Azzeglio Ciampi di Firenze la mostra di pittura Gli affreschi perduti del Pontormo i due cantieri di San Lorenzo dell'artista Alessandro Vannini. L'esposizione propone un percorso artistico filologico a partire dalle ricostruzioni dell'affresco che Jacopo Carucci, detto il Pontormo realizzò nel coro della Basilica di San Lorenzo a Firenze e che fu distrutto nel 1738 durante i lavori di rifacimento della cappella. Le opere si basano su alcuni schizzi originali del Pontormo e su un piccolo numero di copie posteriori. Qui presento una prima versione del 1971 che è quella, i quattro evangelisti ascendono il giudizio e il resto sono opere recenti degli ultimi 3-4 anni. In tutto questo frattempo io ho lavorato, ricostruito, distrutto, ricominciato mai soddisfatto evidentemente dei risultati. La ricerca continua tuttora anche se in questi ultimi tempi c'è stato uno scarto di binario nel senso che anziché una ricerca filologica rigorosa sui testi cioè sui disegni originali del Pontormo mi permetto libere digressioni e fantasie assolutamente personali. Ancora una volta questo spazio espositivo che abbiamo così fortemente voluto tutti insieme si apre a una grande occasione. Noi siamo qui con l'esigenza di recuperare. L'affresco si fa, l'affresco si distrugge, l'affresco si recupera. E quindi per questa opera meritoria volta a recuperare il passato con l'esigenza anche di guardare all'oggi noi come ufficio di presidenza non possiamo che dire un'enorme grazie all'artista. Grazie a tutti.